Scusate, eccoci qua, allora possiamo, credo possiamo cominciare in attivi, prego. Buongiorno mister, si arriva da una settimana nella quale magari la prima parte è servita anche come confronto con i suoi ragazzi dopo quella che è stata l'ultima sconfitta con il Benevento. Come ha visto negli sguardi la sua squadra e quanto è stato importante? Non c'è stato nessun confronto, non c'è stato nessun confronto, abbiamo toccato il fondo, bisogna assumersi delle responsabilità, non mi è sembrato il caso e non era corretto lasciare i due giorni liberi perché mi ha fatto una figuraccia, il primo responsabile sono io e come avevo fatto anche i biglietti per andare in Spagna due giorni con la mia famiglia, ho strappato i biglietti, sono rimasto qua, abbiamo lavorato. Siamo guardati, siamo assunti delle responsabilità perché quando si indossa una maglia così gloriosa le responsabilità bisogna assumerle. Qualcuno ha fatto piacere, a qualcuno no, nemmeno mia moglie ha fatto piacere che siamo rimasti a casa. Siamo stati qua, abbiamo lavorato, dopo può piacere o non può piacere sinceramente me ne posso anche sbattere. L'altra parte era quanto è stata importante la presenza anche qui a Milan Nero della società, una società che è sempre stata presente però avete avuto modo anche di parlare anche con progetti futuri. La società è normale, in questo momento quando si parla di società e quando si tocca i due personaggi che rappresentano la società che sono quasi tutti i giorni a contatto con me, sia fisicamente che telefonicamente, il signor Mirabelli, il signor Fassone ed era minimo che anche loro stavano qua e sentire, far capire anche quali sono le prospettive, se le cose, se si arriva a sesti, se si arriva a settimo, se non si arriva in Europa League, quali sono gli scenari. Ed è giusto che ognuno di noi sa, perché come mi gioco io il posto, perché io mi gioco il posto e mi deve bruciare quando non raggiungo gli obiettivi, tutti noi ci giochiamo un qualcosa, i giocatori si giocano un qualcosa, i dirigenti si giocano un qualcosa, i anattori si giocano un qualcosa. Ed è giusto che ci sono stati vicini, è giusto che si ricordi a quello che, se non centriamo gli obiettivi, quali sono gli scenari. Ed è giusto che sono venuti qua a raccontarlo ancora e farlo sentire. Allora da questo punto di vista, l'altra cosa era che cosa si aspetta di vedere dai suoi giocatori a Bologna? Io prima ho detto, dopo la parretta ho detto che ho visto una squadra senza anima, quando si gioca senza anima dopo vado ad analizzare bene le partite, si vede che abbiamo interpretato la partita a livello di singolo giocatore, non abbiamo giocato di reparto in nessuna zona del campo, abbiamo fatto delle scelte a livello personale e si tocca con mano, siamo abituati a giocare in un certo modo. Io sono qua da mesi che vi dico, dopo qualcuno mi prende per scemo, ma scemo non lo sono, che questa squadra ha delle caratteristiche ben precise. Questa è una squadra che se non gioca sui 20-25 metri, se non chiude linee di passaggio, se non soffre gli avversari, se da campo agli avversari, se vai a fare una pressione a livello individuale, ti mettono sempre in difficoltà le squadre avversari. E si tocca a questa con mano. Dopo, siccome fate sto mestiere, qualcuno di voi è anche bravo, secondo me, a leggere le partite, sto dicendo robe giuste o sto dicendo robe sbagliate? E basta, sono queste. Noi dobbiamo continuare su quello. Perché dopo è vero, è un dato di fatto che questa squadra ha 57 partite sulle gambe, è un dato di fatto che questa squadra è la squadra che ha giocato più in Italia, è un dato di fatto che fisicamente non siamo al top. Però quando è una squadra organizzata, quando è una squadra comincia a sentire puzza, quando comincia a sentire un odore diverso, bisogna cambiare mentalità, bisogna giocare come abbiamo giocato quando aspettavamo gli avversari, perché con la Roma, con la Lazio, questa squadra ha fatto delle grandissime partite, quando ha giocato con umiltà, quando ha rispettato gli avversari, dopo sono venute fra tutte le caratteristiche. Ma se noi cominciamo a pensare che abbiamo vinto i 7 Champions, perché siamo arrivati in finale di Coppa Italia o perché abbiamo battuto delle squadre importanti, ma se ci manca l'anima, se ci manca l'umiltà, se ci manca la voglia, perché puoi anche sopperire alla condizione fisica. Ma ci vuole l'anima, ci vuole voglia. E io ho tutti questi segnali perché non voglio difendere nessuno, perché sono il primo, che sono duro con me stesso e penso se posso regalare qualcosa ai miei giocatori. Però io ho tutti questi segnali, e forse questa è la cosa che mi fa arrabbiare, tutti questi segnali negativi, in realtà non ce l'ho. Questa è una squadra che si allena sempre bene. Il problema è che dopo arriviamo, quando c'è da, perché le partite con la Juventus, le partite con l'Arsenal, ma manca sempre poco, manca poco, manca poco, ma manca poco. Manca sempre un qualcosa. Ed è per questo che a noi ci devono servire da lezione. Perché sento dire rivoluzione o rivoluzione. Questa è una squadra, e lo ribadisco, è una squadra forte, che mancano sicuramente, per farla diventare ancora più forte, manca un qualcosina, ma è una squadra di età media, 23-24 anni, che può aprire un ciclo, con tre o quattro cose fatte giusto, che se non si sbagliano, può aprire un ciclo. Perché è una squadra, ricordiamoci, sette anni fa la Juventus, ricordiamoci altre squadre, non sto qua a ripetere, però non devo di fatto, non devo di fatto e ne sono convinto di questo. Dobbiamo cambiare qua, qua e qua, perché parte tutto da qua. Non basta solo il cuore, non basta avere solo tecnica, ma parte da qua, di grande mentalità, di lavorare tutti insieme. E questo ci manca però, in questo momento ci manca questo. Mi aggancio a questo, li vedi bene in allenamento, poi in partita a volte no. Allora ti faccio la domanda, perché, riallacciandomi a quello che ha detto Di Francesco, la Roma è una squadra che si sa adattare a qualsiasi avversario. Può essere questo una delle ragioni? No, noi ci dobbiamo adattare a nessun avversario, noi dobbiamo giocare al solito modo, non subire gli avversari e giocare sulle nostre qualità, quello che sappiamo. Ma noi non possiamo pensare che all'improvviso vogliamo andare a fare una persona ultraoffensiva, andare a prendere gli avversari, provare a fare un qualcosa di diverso, e quando con quattro passaggi sistematicamente ci arrivano in porta. Ma sono robe che dico o li vedo solo io? O quattro o cinque mesi fa, sei mesi fa, vedevate le stesse cose, che con cinque passaggi arrivavano negli ultimi venti metri. Noi non dobbiamo commettere queste cose qua, dobbiamo giocare da squadra, organizzata e giocare di reparto, non ognuno di interpretazione come vuole, di reparto. Palla coperta, coprire bene il campo, sapere quello che dobbiamo fare, come abbiamo fatto. Perché dopo non è vero che questa squadra, è vero che non vingiamo da 40 giorni, ma che squadra abbiamo affrontato, ditemi. Perché la settimana prima di Benevento, ragazzi, e tutta l'Europa parlava della prestazione di Milan, non è che sono passati due mesi, tre mesi. È tutto qua. È tutto nella testa. Perché se non concedi un tiro ai guaini, se concedi poco ai giocatori che sono campioni e dopo, come cali un po' a livello mentale, vai in difficoltà con giocatori normali, allora vuol dire che è anche una questione di testa, una questione di mentalità. Non è solo una questione che i giocatori non sono buoni. È questo che secondo me... Dopo la storia dei Milan, negli ultimi cinque o sei anni, cosa racconta, Carlo? Cosa racconta? Dimmi. Negli ultimi cinque o sei partite, sette partite. Cosa racconta? Racconta che ad aprile non abbiamo mai vinto negli ultimi quattro anni. E sento dire, ma noi è sempre stato così. No, è stato sempre così. A me non mi interessa che è sempre stato così. A me non mi interessa che è sempre stato così. Perché è sempre stato così e è troppo facile. È sempre stato così. Allora ci assumiamo le responsabilità, ci mettiamo la faccia, io ci metto in mio bel faccione, che è bello grosso, e ci mettiamo tutta la faccia. Vediamo se è sempre stato così. All'uomo di mare, questa domanda. Ti chiedo questo. Ex mare, sono 21 anni, di lago, devi dire di lago. Per me tu sei un uomo, tu sei figlio di un uomo, un maestro d'ascia, per me tu sei un uomo di mare. Rino, ma un uomo di mare come te riesce sempre a tenere il timone e la barra dritta con tutte queste turbolenze intorno, il mare, il vento e tutto quello che è successo. Faccio un esempio pratico. Le indiscrezioni. Ma no, ma non è solo, se vuoi dire solo quella roba di Mirabelli, e se non è solo la questione Mirabelli, perché Mirabelli in questo momento chi di dovere l'ha tranquillizzato, ma c'era poco ed è tranquillizzato perché secondo me è vero, ha comprato 11-12 giocatori e ci sta che qualcuno ha giocato a di sotto le possibilità, ma ci sono anche i giocatori che hanno dimostrato che ci sanno fare, che hanno un valore anche totalmente diverso. Penso che il lavoro di Massimiliano non è tutto da buttare, anzi, ha fatto grandissime cose, ma penso che non dovesse ria riconfermarlo, ma già a chi di dovere gli ha detto quello che doveva dire. Penso che sono solo chiacchiere da barri in questo momento. Però il problema è che finisce il punto, finisce la roba Mirabelli e comincia la gestione, il rifinanziamento no, finisce il rifinanziamento e comincia un'altra roba, finisce un'altra roba e ne ricomincia un'altra. E in questo momento la cosa più importante è dal primo giorno, e credetemi quello che vi dico, a me di tutto quello che succede per me, tutto quello che succede tutti i giorni, e per questo tante volte non voglio leggere nulla, voglio guardare solo negli occhi le persone con cui devo lavorare, che non sono solo i giocatori, ma sono cento e passa persone che stanno a contatto con la squadra, e voglio prendere energia con loro, ma questo è dal primo giorno che sono arrivato, che dopo c'è tensione, oppure tante volte tutto questo ti fanno perdere anche un po' di credibilità negli occhi dei ragazzi o negli occhi di chi lavora, è un dato di fatto, ma non mi interessa, oggi non mi interessa. Oggi per me la priorità più grande è riportare questo club dove merita, con grande difficoltà, ci sono dei giorni che non so dove cominciare, ma devo dire che tutte le persone che cerco aiuto, tutte le persone che in questo momento circondano questa società qua, di rifo o di raffa, una mano ma stanno tanto tutte. Ma sicuramente se pensiamo di continuare sempre così è difficile, molto difficile, ma io devo guardare il mio orticello, che è quello della mia squadra, è quello di vincere le partite. Fino a poco tempo fa ci riuscivamo e nessuno ci diceva nulla, anzi eravamo tutti belli, eravamo diventati tutti Brady Pitt. Adesso siamo diventati tutti dei mostri, ma va bene, ma bisogna lavorare, credere fortemente ed è per questo che oggi voglio prendere l'energia solo nel mio gruppo di lavoro, le persone che mi circondano e nel quotidiano. Dopo vedremo, ma in questo momento non vado alla ricerca di alibi, perché la cosa più bella sarebbe sì, ma tanto non funziona nulla. Ma non è così, non è così. Perché quando si vinceva funzionava tutto, sì, con tante problematiche, perché ci sono delle problematiche, però quando c'è l'aiuto di tutti, quando c'è un sostegno da parte di tutti, quando c'è coesione, quando c'è voglia di stare insieme, diventa tutto più facile. E noi in questo momento non dobbiamo farci riempire la testa di Mirabelli o del rifinanziamento, delle robe. È il campo che parla. Oggi noi abbiamo un dovere di far parlare il campo. Anzi, più non facciamo bene in campo, e più diamo modo di far venire casine e di far divertire chi non ci vuole bene. Grazie. Senti, ti volevo chiedere. Un paio di settimane fa avevi detto che avevi notato un po' di scoramento, forse per la battosta mentale di non essere più in grado di raggiungere la Champions, se non virtualmente. Vorrei capire se questa disillusione è stata somatizzata e se la squadra ha reagito. È fisiologico quello che... Allora, quando sei calciatore, oppure io adesso sono dall'altra parte che sono allenatore di questa squadra. È fisiologico un calo di tutto quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo vissuto, le emozioni che abbiamo provato. Il problema è che in questo momento noi non abbiamo tempo di pensare, abbiamo perso un obiettivo e mancano cinque partite, non ci stiamo giocando nulla e proviamo a fare gli esperimenti oppure sono stanco, faccio giocare, provo in altri ruoli, persone per altri giocatori per vedere come stanno, ma noi il problema è che ci stiamo giocando ancora tanto, noi non ci possiamo permettere di staccare la spina. Ed è per questo che io i segnali non li ho avuti. Io ho segnali, non ne ho, io i segnali, se voi, e volevo portarveli oggi per fare anche due chiacchiere, divertirci un po', e vi faccio vedere gli allenamenti di un mese fa, gli allenamenti di oggi, sul cartaceo, ma sono due robe totalmente diverse. Dopo è vero che qualche giocatore in questo momento sicuramente a livello fisico sta soffrendo un po', ma oggi la squadra riesce a tenere i stessi ritmi, anzi ancora più forti, picchi di velocità totalmente diversi, ed è per questo che io quando parlo non vi racconto barzellette, è un dato di fatto quello che vi racconto. Però non basta, non è che basta, dici ma io vengo tutte le mattine alle otto, otto e mezza, timbro il cartellino e ho fatto, ed esco alle sei. E non serve allenarsi solo bene, serve capire, serve capire i compagni in che momento sta vivendo, serve capire se tutti quanti in questo momento abbiamo l'occhio della tigre quando si va in campo, serve capire che quando c'è un pericolo la corsa si fa prima e non dopo, e non pensare che c'è il compagno dietro che ci metta una toppa, questo serve capire, perché oggi non è il problema di come si allena una squadra o come non si allena, questa è una squadra viva, questa è una squadra che sicuramente dobbiamo ricominciare a vincere e deve arrivare la vittoria, perché questa cosa la stiamo soffrendo un po' tutti, però è una squadra che lavora, è da 40 giorni, tu pensi che noi prima della Juventus non perdevamo da 11 giornate, da 13 giornate, quanti giornate? Erano tre mesi, capisci che per tre mesi non è mai perso, adesso sono 40 giorni che non vinci, allora qualcosa, fisiologico tutto questo, qualcosa può scattare anche al contrario, penso che oggi dobbiamo andare a ricerca di questo, ma c'è la motivazione perché tante volte non si vincono anche le partite, perché tante partite che abbiamo pareggiato se eravamo un po' più cinici, se eravamo un po' più furbi, se eravamo un po' più fortunati, se eravamo un po' con un po' di esperienza in più, le partite si portavano a casa, ma sempre ma se, sempre ma se, sempre quando le grandi prestazioni, c'è mancato poco, c'è mancato poco, c'è mancato poco, c'è mancato poco, allora in questo momento, vuol dire che noi dobbiamo crescere su questo, a livello di mentalità, a livello di saper leggere la partita, tutte queste robe qua, e mi ci metto anch'io dentro, perché è un problema che ci sono anch'io dentro, non solo i miei giocatori. Arianna, alla lunga è difficile, volevo capire a cosa ti riferivi, cioè a gestire le pressioni, gestire al discorso che prima, quando alleni in mila le pressioni, quando alleni in mila, quando alleni in mila, all'allenatore le pressioni, l'avrà sempre, io non parlo delle pressioni, io dico quando, in questo momento, è nei momenti di difficoltà, essere bravi, essere bravi e a stare compatti, essere bravi, che anche qualche mio giocatore, dice una parola in meno a voi giornalisti, essere bravi, che qualche persona che rappresenta la società, dice una parola in meno e sta zitto, l'allenatore, quando chiamo qualcuno di voi, fa finta che non apre i whatsapp e non risponde, essere bravi, bravi, di gestire bene questo momento, perché ci stiamo giocando tante, le chiacchiere da barri in questo momento non ci portano a nessun posto, solo all'inferno ci portano, questo dico. Dopo, alla fine, finisce la stagione, viene la società e mi giudica, media punti, sono contenti di quello che ho fatto, non sono contenti, tre anni di contratto, non è un problema, per noi non si è alla terza, te ne puoi stare a casa, vale per il direttore, vale per il direttore di comunicazione, vale per tutti, perché tutti quanti noi siamo giudicati, però in questo momento il fatto di farci male da sola, cosa ci porta? secondo me è nulla, secondo me è nulla, e questa è la mia visione, quello dico, dare gli alibi, oggi questa società non c'ha bisogno, chi rappresenta questa società? Chi fa un lavoro come il mio? Chi fa il lavoro dei giocatori? in questo momento la cosa più facile è gli alibi, gli alibi, andare alla ricerca di chi è la colpa, la colpa, un po' di colpa ce l'ho io, perché alleno questa squadra, e se non arrivano i risultati, la colpa è mia, se a livello comunicativo, tante cose non funzionano, è da comunicazione, se qualche giocatore sta giocando da di sotto, è normale che un po' di responsabilità ce l'ha anche Mirabella, se i conti non sono perfetti, un po' di responsabilità ce la fa solo, ognuno di noi ce l'ha responsabilità, quello volevo dire. Per tornare al campo invece, domani rientra Cialanoglu, che tu hai disciplinato, hai recuperato col tempo, e adesso sembra essere un giocatore fondamentale per questa formazione, è così? Macan è un giocatore con caratteristiche che in questo momento nessun altro giocatore può, ha le stesse caratteristiche di Acani. Il problema è che Acani, questo viene da due settimane, da un piccolo problema di infiammazione, attende un rotulio, si è allenato bene in questi giorni, è un giocatore che a noi ci dà una grandissima mano, ma per me in questo momento non ho bisogno solo di Acani, ho bisogno di ritrovare la mia squadra, la squadra. Oggi col singolo giocatore noi non andiamo da nessuna parte, noi dobbiamo giocare da squadra, noi dobbiamo dare la sensazione di saper tenere bene il campo e di saper soffrire e fare le cose che ci hanno portato in questi mesi a fare delle grandi prestazioni e continuare su quella strada là. Questa è una squadra che ha capito come deve giocare, ha capito come deve tenere il campo, perché non è un caso che come facciamo qualcosa di diverso sistematicamente veniamo puniti, sistematicamente ci fanno male. E non dobbiamo dimenticarci questo, dopo Acan, Suuso, tutti i giocatori di grandissima qualità, sono giocatori che si devono mettere a disposizione da squadra perché loro da soli non ti fanno vincere le partite. In questo momento noi dobbiamo giocare da squadra e da Acan, come altri giocatori, è un giocatore fondamentale per noi, ma da solo non ci porta da nessuna parte. Mister, buongiorno. Io sono d'accordo sul discorso grinta e approccio alla partita, però secondo me ci sono due Milan. Il Milan che incontra una squadra che vuole giocare la partita, ti attacca e là fa le grandi prestazioni e un Milan che a volte, come dici tu, cerca di fare qualcosa in più ma perché gioca con un avversario e si difende in undici e qualcosa in più devi fare. Non puoi, secondo me, anche tatticamente approcciare la partita allo stesso modo e lì lascono le difficoltà. Perché secondo te la partita con Benevento è stata approcciata, noi l'abbiamo giocato uguale al Napoli e alle altre squadre. No, io dico che magari nell'uno con... No, no, la nostra partita, l'inizio partita nostro, al di là delle due punte, la nostra pressione è stata fatta più 20-20, 25 metri più alta, giusto? Sì, sì, giusto. No, di come i movimenti senza palla, ad esempio a parlare anche degli esterni. E dopo quando una squadra fa 42 cross in una partita, 42 cross in una partita, sembra una roba normale che una squadra fa 42 cross in una partita, cross, l'abbiamo mai presa una palla di testo in 42 cross? No. Quando abbiamo attaccato il primo palo 4-5 volte sul fondo abbiamo mai attaccato il primo palo? Allora, le partite, non è vero che noi, è vero che noi, le migliori partite nostre abbiamo sempre fatte chiudendo linee di passaggio, riconquistato palla a campo aperto, facevamo male agli avversari. Dopo abbiamo cambiato, però, siamo da due mesi a questa parte che vogliamo partire sempre da basso, che vogliamo lavorare con le catene. Il problema è che tante volte arriviamo negli ultimi 20 metri facciamo il solletico agli avversari e questo è il nostro problema. Allora, non è vero che noi, che noi siamo, siamo da due mesi che abbiamo cambiato modo di giocare, anche di affrontare gli avversari, stiamo facendo qualcosa di diverso. Non è vero che le migliori partite nostre l'abbiamo fatte solo in un mondo. Il problema è che dobbiamo essere più velenosi, più cattivi quando andiamo a sviluppare gli ultimi 20 metri, perché tante volte ci arriviamo e anche le conclusioni non sono perfette, l'attacco porto non sono perfetti, i tagli, ultimamente con le mezzare stiamo facendo pochissimi tagli, prima si vedeva di più. Non so, non so cosa chiederti, nel senso che la cosa che veramente, no, perché ho due o tre domande, ma la cosa più più importante è, ma stai trasmettendo questa incazzatura che c'hai, bella dura ai tuoi giocatori. Secondo te la stanno ricependo? Ma tu che dici? Ma tu pensi che noi pettiniamo i bambini qua? Un buon comunicatore da quel punto di vista, trasmette, posso garantire. Perché devi vedere domani se 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 trasmettono, no? Devi vedere domani? Devi vederlo domani se trasmettono, no? No, non credo. Ah, no, l'hai detto te. però poi si vede sul canale. Allora, Milan News. Mister, io invece ti vedo deluso, deluso dalla squadra e forse anche un po' da quello, da questo atteggiamento che sta uscendo fuori da parte della società. Hai detto te, io non so deluso, io sono, io sono, io sono incazzoso perché so, so, perché c'è, perché la sconfitta, il fatto che non si vince da 40 giorni. Ragazzi, ma venire qua con la faccia da ebete e sorridere e mancanza di rispetto nei vostri confronti vuol dire che non tengo al mio lavoro. So 40 giorni che non si vince, non posso venire qua a raccontare i barzelletti, siamo, siamo, siamo una macchina perfetta, ci vogliamo tutti bene, siamo, sì, si lavora, si lavora, però in questo momento non basta quello che stiamo facendo. Però il fatto che questa squadra qua, e ripeto, che qualcuno, perché anche qualcuno di voi ha scritto i ragazzi sono incazzati perché non gli ha dato due giorni liberi. E' il minimo, è il minimo. Sbagliate voi che scrivete queste robe, è il minimo, è il minimo. E' per questo che sono incazzati. E non è vero che sono deluso, deluso di cosa? sono deluso di me stesso che forse in questo momento non sono stato bravo abbastanza di riuscire a fargli a cambiare la mentalità al 100% a questa squadra. E dopo bisogna cercare di vincere i partiti. Mangano quattro partiti, ci stiamo giocando ancora con cose importanti, abbiamo una finale di Coppa Italia e la delusione è normale che c'è. Buongiorno mister, io torno sempre sulla questione campo. Abbiamo visto che nel corso della sua gestione lei ha utilizzato più o meno sempre lo stesso scheletro di formazione per 10 undicesimi, mentre invece c'è sempre stata anche per, come ha detto sempre spesso lei, una rotazione per quanto riguarda l'attaccante centrale. Ecco, io le chiedo se dobbiamo aspettarci nelle prossime partite ancora questo tipo di rotazione oppure potrebbe essere l'idea quella di scegliere un giocatore e puntare su quello. Rispondo allo stesso modo. Quando comincia la partita, mezzo alla prima da una formazione, vedi le scelte che faccio. In questo momento gli uomini non, per me in questo momento non, per me vale anche durante la settimana come si allenano i giocatori, come li vedo. Ve lo dimostrate anche con Andresiva, Andresiva ha fatto due gol tre settimane fa, è stato due partite di fila che ha fatto gol, dopo ha giocato, dopo è stato fuori. Mi baso anche durante la settimana, quello che vedo durante la settimana. Non posso pensare che uno durante la settimana fa il pirra, non si allena come si deve allenare e gli altri che si allenano a mille all'ora posso pensare che il livello super giù è uguale, non è che con caratteristiche diverse ma il livello super giù è molto simile. Mi baso molto durante la settimana. Ciao mister, io ti volevo chiedere invece, ricollegandomi le parole di Biglia di due giorni fa, ha detto che farà di tutto per cercare di essere presente nel finale di stagione. Volevo chiederti se avresti parlato con lo staff medico per effettivamente vedere se c'è questa possibilità di recuperare in anticipo rispetto alle sei settimane. se stiamo dietro a Biglia in questo momento per lo spirito, per la mentalità, lui già tre giorni fa tutto storto, tutto di bolina, ora fa la bici per farti capire che spirito a B. In questo momento dobbiamo stare attenti a non far sciocchezza, valutare bene a un infortunio serio che bisogna ragionarci bene, starci con la testa e non farci portare fuori binare dall'entusiasmo di Lucas. Bisogna frenarlo in questo momento perché se ascolta Lucas possiamo solo fargli del male perché è uno che ha una grandissima voglia, un grande senso di appartenenza ma in questo momento è giusto fare le robe per bene e dopo vediamo. Due cose, la prima anche... C'è ancora una domanda facciamola rapida cortesemente che poi... Grazie. No, volevo chiederti su Romagnoli ci saranno... o meglio ci sarà la possibilità di vederlo... Romagnoli settimana Romagnoli è da quattro giorni che ha fatto l'avviso di controllo e da quattro giorni ha cominciato a correre a alzare un po' di ritme settimana prossima sicuramente farà ancora due o tre giorni di sedute solo atletiche che dopo fra due o tre giorni lo rivalutiamo di nuovo e vediamo se riesce viene a 50-60% a toccare la palla con noi. Quindi per la finale di Coppa Italia potrebbe esserci? In questo momento le cose stanno andando bene sta cominciando ha cominciato a correre già tre giorni fa e lo valutiamo settimana prossima. Grazie. Grazie. Un accenno anche al Bologna di Donadoni perché non abbiamo parlato e domani l'avversario prima cosa. Che partita sarà? Sarà la stessa partita sarà la stessa partita che abbiamo fatto con il Torino. Sicuramente è una squadra che è meno tignosa ma è una squadra che è davanti a grandissime qualità non può sbagliare nulla. Verdi è un giocatore che destra e sinistra ancora non si capisce qual è il suo piede. quando in Buca Palazio domani penso che gioca anche Di Francesco sono giocatori veloci sono giocatori che non devi stare attento a non dargli profondità ed è una squadra che sa giocare non c'è nessuna pressione domani per noi sarà una partita molto difficile perché è una squadra che ha grandissime qualità specialmente dal centrocampo in su e dobbiamo stare molto molto attenti con la cosa che mi fa più paura è la loro spensiaratezza perché in questo momento sicuramente anche il fatto che hanno fatto due giorni di riposo non hanno grande stress grande tensione e voi sapete meglio di me che quando non c'è questa componente il pallone comincia a pesare meno la testa è più libera le gambe quando la testa è libera vanno sempre vanno forti ecco invece ho visto una statistica per me è una domanda impossibile anche per te ma ci provo da uomo di calcio il Milan perde con una squadra retrocessa il Benevento con Gattuso allenatore con la dirigenza cinese con una rosa diversa l'anno scorso pareggia col Pescara e perde con l'Empoli in Montella con Brocchi contro Carpi Frosinone e Verona già retrocessa l'aprile guadagna due punti chiudo no ma fermo no ma devi sei rimasto al terzo anno giusto c'ho anche Inzaghi che perde con Udinese e Genova vai sono fermato i quattro con quattro allenatori io non riesco a capire lo stesso problema e dopo mi dite perché sono incazzoso mi chiedete perché sono incazzoso pensa se arrivavo qua con la faccia sorridente fischiettando queste sono le motivazioni ho risposto mi ho risposto sono incazzoso per questo motivo qua perché non è un caso perché quando sento dire sempre così è da un po' di tempo che è così allora se mi da un po' di tempo che è così vuol dire che da parte mia mi devo fare anche delle domande e mi devo dare anche delle risposte è cambiato tutto non mi hai capito ma il fatto che ripeto la partita con il Napoli perché dopo come fai di nuovo quando Vincenzo mi dice mi fa la domanda perché determinate squadre vengono fuori delle prestazioni dopo con altre perché parte da qua dalla mentalità dalla mentalità perché se non fai tirare mai sei il campione sei il campione in delle partite non lo fai arrivare nemmeno nei dieci metri nell'aria vuol dire che non sei così scarso vuol dire che sei bravo vuol dire che quando c'è attenzione c'è il veleno vuol dire che sei sei un giocatore forte sei una squadra forte allora è la mentalità oggi bisogna lavorare su quello è per questo che non voglio non voglio sentir parlare i tuoi giocatori sono incazzati perché perché l'avete scritto voi perché gli hai levati i due giorni era il minimo era il minimo di quello che della figuraccia che abbiamo fatto contro il Benevento che potevamo fare era il minimo grazie 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 Grazie.